Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per rispondere ad altre domande che vi avete fatto inerenti alle procedure concorsuali. Ci sono tanti tanti dubbi, alcuni sono legati alla piattaforma, alcune problematiche che si sono evidenziate in questa prima settimana di apertura sono state segnalate al Ministero. Vedremo se saranno risolte. Io non mi sono ancora iscritta, per cui rispetto alle problematiche mirate della piattaforma devo ancora farmi un'idea e capire. Ma ci sono delle domande che mi avete fatto che sono generiche o che comunque conosco e quindi le affrontiamo in questo video. La prima questione è inerente agli ITP, quindi agli insegnanti tecnico-pratici. Ci sono ancora tanti dubbi rispetto a questa categoria di docenti e, lo ripeto, questi sono gli unici docenti, gli unici, che potranno accedere al concorso con il solo diploma. Quindi è l'unico caso di specie in cui basta il diploma per accedere ai concorsi per l'insegnamento. Detto questo, gli ITP sono quindi differenziati da tutti gli altri docenti che parteciperanno. Per quanto riguarda la prova pratica, alcune classi di concorso tecnico-pratiche prevederanno anche una prova pratica. Però attenzione, perché qui ci sono tante errate interpretazioni. La prova pratica sarà sostanzialmente una parte di prova orale. Cosa intendo dire? Che laddove tu sia un insegnante tecnico-pratico che concorre per una classe di concorso in cui è prevista una prova pratica, nel momento in cui tu andrai a fare la tua prova orale, ti verrà chiesta anche una piccola, possiamo chiamarla, dimostrazione. Quindi la prova pratica a quel punto entrerà a far parte della prova orale. Spero sia chiaro questo, perché ci sono tantissimi fraintendimenti da parte di persone che pensano che la prova orale sarà separata dalla prova pratica, che la lezione simulata sarà separata dalla prova orale. Dunque no, per le classi di concorso che lo prevedono la prova pratica sarà parte integrante della prova orale. Invece per tutte le classi di concorso la lezione simulata sarà parte della prova orale. L'unica cosa che un pochino manda in confusione è che la traccia della lezione simulata viene estratta 24 ore prima del proprio orale. Quindi 24 ore prima si va lì e si estrae un fogliettino, proprio un ritaglio di carta, in cui in un paio di frasi, in due o tre periodi, viene insomma descritto un pochino sì la traccia. Solitamente la classe di concorso per le secondarie ovviamente è specifica, quindi se tu concorri per matematica avrai una lezione simulata da fare su un qualche argomento di matematica che lì verrà riportato. Per quanto riguarda infanzia e primaria che invece hanno un'assimilazione delle classi di concorso in quella che viene definita classe di concorso posto comune, per esempio se concorro per la primaria potrò trovarmi un qualsiasi argomento. Potrò trovarmi storia, geografia, scienze, educazione civica. Solitamente poi viene data un'indicazione della composizione della classe e presenza di eventuali alunni con bisogni educativi speciali. Quello cercano di inserirlo sempre, proprio perché vogliono anche andare a valutare se tu sei in grado di progettare in ottica inclusiva. Quindi questo è come funziona la lezione simulata. Si estrae, poi tu hai 24 ore di tempo per elaborarla e quando vai poi alla tua prova orale parti dalla lezione simulata, la esponi, poi i commissari ti possono fare delle domande a partire da quella lezione simulata lì per poi esplorare anche tutti gli argomenti, anche già quelli che erano oggetto di prova scritta oppure possono spostarsi più nel campo disciplinare specifico perché appunto la parte generale è già stata indagata nello scritto. In tanti mi hanno chiesto cosa si intende per parte generale. La parte generale sono le discipline oggetto di prova scritta quindi la psicologia, la pedagogia, la psicopedagogia, la legislazione stessa che ci sarà, io lo ripeto a mai finire, nonostante voi non vediate la sezione specifica quindi nella composizione della prova scritta non c'è scritto sezione domande di legislazione ma chiaramente possono essere mascherate dietro a domande di altra natura se mi fanno per esempio una domanda sul curriculum, se mi fanno una domanda sul PTOF se mi fanno una domanda sulla valutazione, è tutto pregno di valutazione tante persone mi hanno detto eh no perché con tutta questa legislazione che ci hanno dato da studiare vogliono che noi andiamo a insegnare giurisprudenza ai bambini non è così, è tutto pregno di legislazione a scuola questo è il motivo per cui appunto la legislazione c'è e vi invito se non ci credete ad andare a controllare rispettivamente per infanzia e primaria e per le secondarie i decreti 205 e 206 del 29 novembre 2023 poi altra domanda che mi avete fatto, scusate se mi dilungo sempre è per i candidati con disturbo specifico dell'apprendimento quindi come comportarsi in caso si possieda una certificazione di questo tipo bisogna rapportarsi direttamente con chi organizzerà le prove scritte che voi andrete a fare perché secondo la tutela della legge 170 2010 voi potreste avere insomma diritto a tempo aggiuntivo oppure a strumenti compensativi in questo caso quindi voi dovrete inoltrare la documentazione di competenza all'ufficio scolastico regionale ovviamente della regione che scegliete per concorrere e che sarà quindi la regione in cui andrete a fare le vostre prove in quel caso lì una volta accolta la documentazione avrete indicazioni specifiche però sulla piattaforma al momento dell'iscrizione non è possibile segnalare questo tipo di questioni proprio perché sono molto specifiche e quindi vengono delegate a chi organizzerà le prove il calendario delle prove, la distribuzione dei candidati io presumo, ma questa è una mia ipotesi che poi una volta che perverranno tutte le certificazioni di disturbo specifico dell'apprendimento agli uffici scolastici regionali verranno organizzate delle aule ad hoc con degli orari ad hoc non lo so però penso che metteranno insieme tutti i candidati con specifiche necessità e questa ovviamente è una cosa che si può gestire localmente è difficile che lo Stato si faccia carico di questo perché diventa dispersivo quindi anche su questo abbiamo risposto dopo di che la sede dell'orale è uguale alla sede dello scritto ebbene no a scanso di particolari diciamo così eccezioni scritto e orale si tengono nella regione scelta per concorrere la sede dello scritto e la sede dell'orale non necessariamente coincidono voi potreste essere mandati nella scuola A per lo scritto nella scuola B per l'orale ecco quello che vi posso dire è che le procedure concorsuali vengono espletate nelle istituzioni scolastiche quindi non verrete mandati in una sala cinema a fare le prove dei concorsi ma nelle varie scuole distribuite per il territorio regionale l'ho detto tante volte e lo ripeto non esiste una razio di vicinanza cioè se voi siete residenti nella stessa regione per cui concorrete non è che si prendano la briga di dire ti mandiamo entro i 100 km da casa ti mandiamo il più vicino possibile purtroppo fanno una suddivisione che molto spesso è scomoda cioè ci sono dei candidati che vengono mandati a 300-400 km quindi poi lì eventualmente bisogna mettere in conto un pernottamento, delle spese di viaggio eccetera eccetera però non necessariamente la sede dello scritto e dell'orale coincidono ecco questo è importante da segnalare dopodiché per quanto riguarda il caricamento del servizio caricamento del servizio in piattaforma per quanto riguarda l'iscrizione allora io vi ricordo prima di tutto che non è possibile dichiarare servizi prestati senza il titolo vi faccio l'esempio più comune forse se hai lavorato da studente di formazione primaria quindi quando il tuo titolo ancora non lo possedevi non puoi far valere quel servizio ai fini del concorso perché il servizio prestato senza titolo non ha valore giuridico l'eccezione invece vale per gli studenti che sono fuori corso detto questo, altra questione importante sul servizio il servizio che avete prestato su sostegno vale solo se voi concorrete per la classe di concorso sostegno il servizio prestato sul posto comune vale solo se voi concorrete sulla classe di concorso comune quindi lo ripeto ancora tutti coloro che hanno prestato servizio su sostegno senza avere specializzazione devono polverizzare quegli anni nel senso che ai fini del concorso non vengono riconosciuti detto ciò, ultima questione che mi avete richiesto per quanto riguarda il TFA ovviamente il TFA, quindi il titolo di specializzazione deve essere posseduto entro la data di scadenza del bando per essere più precisi voi vi dovete essere specializzati entro il 9 gennaio del 2024 l'eccezione unica è per chi ha richiesto il riconoscimento del titolo TFA estero queste persone possono presentare domanda di concorso dichiarando di aver fatto al ministero richiesta di riconoscimento in Italia ovviamente lì avranno la riserva perché nel caso il riconoscimento andasse a buon fine la loro partecipazione al concorso prosegue altrimenti no per quanto riguarda il TFA aggiungo quando voi inserite la data del conseguimento vi fa scegliere da un menu a tendina secondo quale dispositivo legislativo voi vi siete specializzati ora generalmente diciamo che i percorsi la premessa è questa i percorsi di specializzazione sostegno hanno subito nel corso degli anni delle modifiche proprio strutturali anni fa c'erano le SIS poi c'è stato il DM 249 del 2010 ce ne sono stati altri nel frattempo comunque i TFA più recenti sono regolati dal DM 249 del 2010 ma se avete una specializzazione sostegno conseguita anni e anni fa vi conviene andare a guardare sull'attestato che vi è stato rilasciato qual è il riferimento normativo e selezionarlo correttamente dalla tendina questo è sostanzialmente quello che vi viene richiesto non mettete numeri a caso ultima questione che però aggiungo io non me l'ha chiesta nessuno è inerente ai 14.000 posti 14.400 erotti che dovrebbero essere integrati agli attuali 32.000 messi a bando di questi 14.000 posti avevamo già parlato è da mesi che se ne parla perché il ministero ha chiesto al MEF l'autorizzazione di aggiungere questi ulteriori 14.000 posti al computo totale per i concorsi questa cifra in questo momento è ancora al vaglio del MEF e della Corte dei Conti parrebbe che l'esito dovrebbe essere positivo nel caso in cui fosse positivo che cosa accade? non accade niente di particolare se la risposta positiva arriverà quando il concorso sarà già partito quindi quando le iscrizioni saranno chiuse e tutto quanto semplicemente il ministero emanerà un decreto integrativo e questi posti verranno aggiunti per i candidati non cambia niente può solo migliorare la situazione quindi insomma monitoriamo il tutto e vi terrò come sempre aggiornati se questo video vi è stato utile io vi invito sempre a lasciare un mi piace condividerlo iscrivervi al canale a voi costa nulla a me aiuta a crescere quindi grazie mille ci vediamo al prossimo video se avete altre domande lasciatemele nei commenti o venite a farle su instagram ciao ciao